Siamo con il mister Massimo Silva alla vigilia di una sfida che qualcuno forse eccessivamente ha già definito sfida salvezza comunque una partita delicata tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo Sì sfida salvezza mi sembra prematuro però chiaramente fare la nostra partita, vincere ci porterebbe ancora in una bella posizione di classifica ci darebbe grande morale, veniamo da una discreta prova a Modena, un buon risultato quindi abbiamo tanta carica per fare la nostra partita Anche perché poi arriveranno due trasferte molto difficili quindi incamerare punti sarebbe ancora migliore Certo questo sulla carta però dobbiamo ancora farle queste partite però ho notato anche questa settimana un grande spirito battagliere aggressivo nel gruppo quindi spero in una buona partita, speriamo di sbloccare, di fare gol e speriamo di vincere, questo è l'imperativo E cosa la preoccupa più di questa sfida? Ah no abbiamo, beh diciamo che abbiamo qualche acciaccato, spero di recuperare qualcuno e poi insomma dobbiamo pensare solo noi stessi non ho timore di niente insomma la squadra sa che quando gioca in una certa maniera può fare il risultato con chiunque Del Vicenza invece c'è qualcosa in particolare che va temuto da valutare anche il modulo con il quale giocheranno? Sì a parte che forse cambierà modulo pare però a noi interessa relativamente certamente ha dei giocatori di categoria molto buoni però insomma ripeto noi non possiamo guardare in questo momento appunto è una pari classifica diciamo pari valore quindi dobbiamo batterla assolutamente Per quello che riguarda invece l'Ascoli lei accennava ai giocatori acciaccati, ci sono diversi però sono molti sulla via del recupero questo significherà che ci saranno dei cambi in formazione? Questo sì anche se Soncin non sarà ancora della partita quindi però dobbiamo valutare bene qualche cambio ci sarà però più o meno la formazione ricalcherà quella di Modelo Russo dal primo minuto? Ma non lo so, ancora non ci ho pensato, i centrocampisti sono sempre tanti quindi devo aspettare fino all'ultimo momento Ultima domanda riguarda quello che un po' ha caratterizzato alcune sfide casalinghe qualche errore di troppo nella fase difensiva che ha causato più che altro degli episodi che poi sono risultati decisivi state pensando di prestare maggiore attenzione? Possiamo ribaltare la domanda cioè dire da situazioni episodiche non solo dipendenti da noi ma anche da qualcun altro che fischia e dopo ci sono venuti magari errori difensivi certo le disattenzioni non devono capitare però chiaramente tipo la partita con Livorno prima insomma delle espulsioni delle cose del rigore avevamo fatto benissimo quindi ecco dobbiamo mantenere magari più calma più calma in certe situazioni e mantenere invece l'aggressività quando serve Se la sente di fare infine un appello lo facciamo spesso ai tifosi però quando ci sono queste sfide un po' chiamiamole anche vecchi tempi in un certo senso così importanti forse c'è ancora più bisogno del pubblico Ma io devo dire che comunque nelle ultime gare ci hanno sempre sostenuto la grande anche con Livorno siamo andati in svantaggio Numerico magari? Eh numerico sì sarebbe ancora meglio però devo dire appunto si è con Livorno anche a Modena che magari non erano numerosissimi ma ci hanno sostenuto tutta la gara la squadra lo sente è chiaro che se venisse un po' più di pubblico a darci sostegno soprattutto per i ragazzi per la squadra sarebbe veramente una grande cosa per poter portare a casa questa vittoria Il Vicenza è allenato dallo scorso luglio dal 43enne Roberto Breda che in 15 gare ha saputo raccogliere 16 punti figli 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con 16 gol fatti e 18 subiti I biancorossi, reddici dal successo interno per 2-1 contro il Novara non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato ma il tecnico di Treviso crede che il match con l'Ascoli rappresenti la giusta occasione per il colpaccio esterno M. Breda Vicenza riparte da Ascoli con il sorriso vista che è arrivata la vittoria con che spirito si va ad Ascoli? La vittoria deve essere una risposta del lavoro che abbiamo fatto sul campo e deve permetterci di concentrarci ancora sul lavoro nel senso che ci aspetta una partita in un campo che è sempre stato ostico però con la consapevolezza di poter far bene come abbiamo fatto spesso fuori casa adesso il nostro concetto deve essere questo prendere forza da quello che abbiamo fatto però non sederci ma trasformarlo ancora in più in convinzione e cercare di fare ancora meglio ad Ascoli Purtroppo però la continuità sulla formazione non ci può essere viste le assenze in attacco di Plasmati Giacomelli in difesa di Gentili Vicenza ridisegnato Ebbè su certe cose purtroppo devi solo prenderne atto e basta perché soprattutto per Gentili spiace perché si era guadagnato il posto stava facendo molto bene e ha avuto questa brutta tegola e le squalifiche fanno parte del gioco però è anche vero che è un'ulteriore opportunità per chi magari ha giocato meno che invece all'inizio giocava tanto per dimostrare poter far bene da questo punto di vista so tranquillo perché so che è un gruppo che risponde e quindi non è un problema Prima di due trasferte Ascoli e poi Provercelli una sorta di esame di maturità per questo Vicenza La B è tutta un esame ogni settimana non hai mai la certezza di niente e ti devi sempre sudare tutto però certamente dobbiamo cercare una certa continuità e se possibile trovare una vittoria più vicino all'ultima non aspettare tanto però abbiamo fatto una buona settimana abbiamo lavorato bene e secondo me anche la risposta sul campo sarà quella giusta Analizziamo quindi le probabili formazioni della gara in programma domani pomeriggio allo Stodio del Duca con la direzione arbitrale del 31enne Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo Breda deve rinunciare agli scolificati Giacomelli e Plasmati e agli infortunati Gentili, Gavazzi e Rigoni possibile un modulo 4-3-3 Pinzoglio in porta in difesa Brighenti, Martinelli, Camisa e Di Matteo a centrocampo Padalino, Giandonato e Castiglia Tridente composto da Semioli, Malonga e Pinardi Silva, privo degli infortunati Soncine e Colomba dovrebbe puntare di nuovo sul 3-5-2 Guarna tra i pali in difesa Ricci, Pecca e Risi e Faiska a centrocampo Scalise, Capitani Donato Loviso, Capece, favorito sul Russo e Fossati e sulla sinistra Pasqualini riduce da un problema muscolare se non dovesse farcela ballottaggio Gian Lombardo con Occhioli in attacco Zazza e Fezzagin Le quote Eurobet per tutti coloro che amano le scommesse sportive il successo dell'Ascoli è quotato a 2-20 il pareggio a 3 la vittoria del Vicenza a 3-50 Treppe regla sull transparency ... ... ... ... ... ... Grazie per la visione!